Namaste Yogis, sono Barbara Beltrami, vi do il benvenuto qui sul mio canale YouTube, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Oggi ho in servo per voi una nuova lezione che fa parte della mia scuola Fly Flow Yoga, una scuola dove pratichiamo live tutte le settimane, quindi c'è un calendario di lezioni live, infatti vedrete i miei allievi e le mie allievi qui nello schermo, e dove ci sono tantissimi programmi, centinaia di ore di lezione per migliorare le proprie skill, progredire nella propria pratica e fare tantissime diverse lezioni per tutti i gusti. Quindi se volete visitare la mia scuola, volete praticare live insieme a me, volete veramente avere una progressione nella vostra pratica, vi invito a cliccare sul link qui sotto, avrete accesso alla mia scuola e soprattutto avete accesso ad un programma gratuito che si chiama Yoga 7, completamente gratuito, sette giorni di lezioni da 45 minuti circa come questa, più meditazioni ed esercizi di respirazione, quindi un programma completo di una settimana che vi farà un pochino fare esperienza di cosa significa essere all'interno della mia scuola. Io vi aspetto, mi raccomando, non perdete questa opportunità, intanto godetevi questa lezione. Namaste Yagis, benvenuti in questo mix ladder flow, inversion flow, mettiamo due lezioni insieme, quindi costruiremo un ladder con dentro delle inversioni, quindi tante opportunità di andare sotto sopra, usatele, avete la possibilità di fare tutta la lezione senza mai fare un'inversione se volete, oppure di metterle dentro piano piano, mettere dentro quelle con cui siete più familiari e magari provate. Se qualcuno di voi vuole avere un muro vicino potrebbe essere utile, soprattutto quando cominciamo a fare i nostri salti nelle verticali, se state utilizzando il muro per praticare queste posizioni, andiamo a prepararci e a iniziare nel nostro child pose, balasana. Quindi sedetevi bene sui talloni, divaricate un attimino le ginocchia, lasciate cadere il petto in mezzo alle ginocchia e lasciate che le braccia si allunghino bene davanti a voi, fronte a terra, in questi primi momenti sul tappetino il corpo è morbido e rilassato, gli occhi sono chiusi, semplicemente ci focalizziamo bene sul nostro respiro, respiro, cominciando a portare bene il respiro in tutto il nostro busto, quindi parte anteriore, parte posteriore. Cerchiamo di immaginare questa espansione in tutte le direzioni, mentre inspiriamo, e una contrazione che riporta tutto verso il centro mentre espiriamo. Anche un bel modo per cominciare a ripulire il nostro sistema da tensioni, preoccupazioni, affollamento mentale, semplicemente pensiamo a questi respiri proprio come una specie di ventata fresca, che ci aiuta a trovare il cui è ora, il momento presente, e la presenza, la concentrazione, l'attenzione per affrontare al meglio tutto quello che ci aspetta in questa pratica. Da qui cominciate ad attivare bene le braccia, magari venite sulla punta delle dita, fate una bella ispirazione, e con la prossima ispirazione ci solleviamo e andiamo a portarci in quadrupedia, quindi portate le ginocchia un po' più vicine, le spalle sopra i polsi, e andiamo a scaldare un pochino polsi e mani, visto che saremo tanto, tanto, tanto su queste posizioni, quindi cominciamo a fare delle belle rotazioni, aprite bene le mani, cercate di radicare bene soprattutto pollice e indice, le nocche di pollice e indice, facciamo delle belle rotazioni, magari potete cominciare a coinvolgere anche la colonna, se volete cominciare a sciogliere un pochino, ma cercate di portare bene bene le spalle sopra i polsi, cambiate il senso della vostra rotazione, ottimo, andiamo a sciogliere un pochino, ok, da qui andiamo a portare a terra i pugni, mi levo gli anelli in modo che non diano fastidio, andiamo a portare i pugni a terra, con le dita che si guardano, respingete bene il tappetino, ispirate, ispirando, mentre scendiamo con i gomiti, apriamo le mani, e veniamo giù come se volessimo portare il petto in mezzo alle mani, e mentre risaliamo, ridistendiamo le braccia e chiudiamo i pugni, facciamolo un po' di volte, distendiamo pugni, scendiamo, aprite le mani, rilassate bene il dorso della mano a terra, e poi risaliamo, facciamo le altre due o tre volte, cominciamo a scaldare bene i polsi, cominciamo a allungare bene tutta la muscolatura, ok, e da qua andiamo a portare le dita delle mani verso le ginocchia, avambracci che guardano in avanti, il retro del gomito che guarda in avanti, da questa posizione facciamo qualche gatto mucca, ispirando, aprite, ispirando, andiamo a guardarci l'ombelico, ispiriamo su, ispirando, muovete bene la colonna, ispiriamo su, e ispirando, apriamo bene, ispiriamo su dal naso, ispirazione, ispirazioni belle profonde, ancora due, e andiamo a sciogliere, ultima ispirazione, apriamo bene, con la prossima ispirazione torniamo in neutro, riportate le dita delle mani in avanti, e da qua scivoliamo in avanti, veniamo proprio sulle nocchie delle dita, sollevate i palmi, e le riportiamo a terra, due, tre, quattro, cinque, sei, ottimo lavoro, sette, braccia belle distese, otto, nove, e dieci, sediamoci un attimo sui talloni, ispirando, portate le braccia in alto, ispirandole, portatele davanti a voi, cercate una bella protrazione delle scapole, cominciamo a aprire e chiudere i pugni veloci, quindici, quattordici, tredici, più veloce che potete, dodici, undici, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, sciogliete, siamo pronti a partire con il nostro ladder flow, che partirà sempre nella posizione di puppy pose, quindi andate a portare il bacino bene sopra le ginocchia, fate scivolare le mani in avanti, lasciate cadere il petto a terra, e se volete portate il mento a terra, oppure la fronte, come preferite, all'inizio del nostro ladder, le prime posizioni le teniamo un pochino più a lungo, poi andando avanti, quando le ripetiamo diventerà un po' più veloce, un po' più dinamico, facciamo tre bei respiri profondi qui, aprendo bene le spalle e si sa che stiamo andando ad aprire le spalle per prepararci alle nostre inversioni, da qua ispirando fate leva sui gomiti, veniamo in avanti, e ci portiamo in una sfinge, spalle sotto, scusate, i gomiti sotto le spalle, respingete bene il tappetino, tirate indietro i gomiti, aprite bene il petto, guardate avanti, restiamo qua, tre respiri, sempre dal naso, sempre belli profondi, se volete approfondire potete distendere le braccia, ma cercate sempre di tenere e mantenere l'apertura nelle vostre spalle, braccia belle dritte, non sentiamo mai le spalle che vengono in avanti, e ispirando riportiamo a terra, fronte a terra, mani sotto le spalle, puntate le punte dei piedi, ispirate, ispirando cominciamo a salire col corpo in asse, piegate le ginocchia, ispirando ci portiamo in un cane a faccia in giù, ginocchia morbida all'inizio, primo cane a faccia in giù, quindi prendiamoci il tempo per, magari pedalare un pochino sul posto, allungare bene la parte posteriore, trovare la posizione, ricordate che anche questa è un'inversione, quindi attivate bene le mani, respingete il tappetino, le braccia belle lunghe, una linea lunga di energia dal polso fino al bacino, e poi dal bacino discendiamo, cercando di mantenere l'attivazione nel bacino, quindi di non arrotondare la lombare, ma di spingere bene gli ischi verso l'alto, e se per fare questo, per trovare spazio servono le ginocchia morbide, tenete le ginocchia morbide, da qui andiamo a aprire il piede, la distanza del tappetino, magari riusciamo a portare i talloni a terra, continuiamo ad allungare bene, e cominciate a camminare indietro con le mani, aprite un pochino le punte dei piedi all'esterno, andiamo a trovare Malasana, schiena bella lunga, tenete i gomiti in mezzo alle ginocchia, e cercate di aprire un po' di più utilizzando la forza dei gomiti, questo ci aiuta anche a allungare bene la colonna, facciamo qualche respiro qui, magari dondolate un pochino a destra e a sinistra, vogliamo cominciare a trovare apertura in questa zona, da qui, quello che faremo, è con tre salti, come se fossimo delle ranocchie, portarci sulla cima del tappetino, quindi potrebbero essere tre mini salti, proprio hop, tre piccoli hops, oppure dei salti un po' più alti, dove andiamo a portare il bacino un po' più in alto, in qualsiasi caso, vorrei che quando saltate, trasferite il peso sulle mani, in modo da diventare leggeri nella parte inferiore del corpo, quindi sentite questa sensazione di essere col peso sulle mani, quando siamo pronti, mani, a terra, un bel salto, e torniamo giù, mani a terra, un bel salto, torniamo giù, ultima volta, mani a terra, un bel salto, e atterriamo sulla cima del tappetino, da qui mani a terra, ruotate le punte dei piedi in avanti, ispirando Ardha Uttanasana, ispirando Uttanasana, con i piedi un po' divaricati, lasciate andare il petto, cercate di portarlo alle vostre gambe, se serve piegate le ginocchia, prendiamo i gomiti, e andiamo ad allungare bene, 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 cima della testa a terra, da qui sciogliete le mani, ispirando lentamente srotoliamo la colonna, veniamo su, portate le braccia al cielo, ispirando, mani al cuore, troviamo la nostra prima Tadasana, quando siamo pronti, portate il ginocchio sinistro al petto, allungate bene, se volete prendetelo con le mani, cercate di tirare bene il ginocchio al petto, allungando la colonna, ispirate, ispirando, facciamo un lungo passo indietro col piede sinistro, mentre veniamo indietro a fondo alto, portate le braccia in alto, prendetevi i gomiti, e cercate di tirarli bene dietro di voi, mentre affondate nella gamba davanti, e distendete bene la gamba dietro, quindi aprite bene i gomiti, cercate spazio, ispirate qui, ispirando portiamo le mani a terra, ispirando distendete la gamba davanti, cercando di portare il petto alle gambe, fronte alle tibie, ispirando veniamo in avanti, ispirando distendete, ancora una volta, ispirando veniamo avanti, allungate bene la colonna, ispirando distendiamo, e da qua ispirando portate il ginocchio sinistro a terra, braccia al cielo, fate una bella ispirazione qua, ispirando distendete la gamba davanti, e andiamo a trovare Ardhanumanasana, ispirando allungatevi bene, ispirando andiamo un pochino più a fondo, facciamo un paio di respiri qua, e da qua portate bene le mani a terra sotto le spalle, cercate di arrotondare bene la colonna, ispirate, ispirando sollevate la gamba a destra, 5, 4, 3, 2, 1, ripieghiamo il ginocchio davanti, ispirando portate le braccia al cielo, ispirando mani a terra, andiamo a trovare la nostra prima tavola, bene attive qua, ispirate, ispirando chaturanga, ci fermiamo a metà strada, ispirando distendete le braccia, aprite bene il petto, cane a faccia in su, ispirando, cane a faccia in giù, qualche respiro qui, ci prepariamo ad andare dall'altro lato, ginocchia a terra, bacino sopra le ginocchia, allunghiamoci bene nel nostro puppy, allunghiamo bene, facciamo un paio di respiri, ispirando scivolate in avanti, andiamo a trovare la nostra sfinge, gomiti sotto le spalle, ispirando aprite bene, ispirando magari distendete per un istante, ispirando ritorniamo a terra, fronte a terra, mani sotto le spalle, puntate le punte dei piedi, ispirando andiamo subito nel nostro cane a faccia in giù, bacino in alto, aprite i piedi alla distanza delle anche, talloni a terra, cominciamo a camminare indietro, e ci portiamo in malasana, aprite un po' i piedi all'esterno, mani al cuore, allunghiamo bene, cima della testa, i nostri tre salti per arrivare sulla cima del tappetino, se saltate guardate sempre in mezzo ai vostri pollici, e se saltate in alto cercate di tenere le ginocchia aperte, ma più possibile vicino al petto, quindi andiamo con tre salti, uno, due, e l'ultimo, tre, e veniamo a terra, se trovate qualche secondo di equilibrio, tenetelo, ispirate, ispirando mani a terra, ruotate i piedi in avanti, andiamo in uttanasana, ispirando, ardha uttanasana, e ispirando ancora un po' più a fondo, uttanasana, ginocchia belle morbide, petto alle cosce, ispirando saliamo, urdhva astasana, ispirando mani al cuore, e da qua il ginocchio destro viene al petto, se serve lo tiriamo un attimino, allungati bene la colonna, magari fate qualche rotazione nelle caviglie, nella caviglia destra, riportiamo le mani al cuore, tenete bene il ginocchio al petto, ispirando un bel lungo passo indietro a fondo alto, portate subito le mani al cielo, incrociate i gomiti, e cercate di aprire bene, portare le braccia dietro di voi, allungate bene la gamba dietro, ispirate qui, ispirando mani a terra, allungate bene la colonna, un'ispirazione, ispirando distendete la gamba davanti, ispirando allunghiamo, ispirando distendete, ispirando allunghiamo, ispirando distendete, ispirando riveniamo in avanti, portate il ginocchio a terra, veniamo in un affondo basso, ispirando allungate bene, ispirando arda, anumanasana, siete bene sul tallone, la prima cosa è allungare la colonna, ispirate qua, e poi andiamo un pochino più a fondo, fronte verso la tibia, gabbia torocica, che si appoggia sulla coscia destra, facciamo un paio di respiri qui, e poi da qua mani sotto le spalle, questa volta vogliamo arrotondare la colonna, attivare l'addome, ispirate, ispirando sollevate la gamba sinistra, 5, 4, piede a martello, 3, 2, 1, e da qua ripieghiamo, ispirando un secondo a fondo basso, ispirando mani a terra, andiamo a trovare il nostro vinyasa, prima una tavola bella attiva, ispirando chaturanga, ispirando, cane a faccia in su, ispirando, cane a faccia in giù, ripartiamo con il nostro flow, ginocchia a terra, bacino sopra le ginocchia, andiamo a trovare il nostro puppy, un paio di respiri qua, e da qua srotolate la colonna, venite in avanti, andiamo nella nostra sfinge, ispirate, ispirando, distendete le braccia, aprite bene, una bella ispirazione qui, ispirando, riscindiamo a terra, mani sotto le spalle, puntate le punte dei piedi, cane a faccia in giù, aprite i piedi, la distanza del bacino, del tappetino, radicate i talloni a terra, camminiamo indietro, dita dei piedi un po' all'infuori, malasana, i nostri tre salti, per arrivare sulla cima del tappetino, mani a terra, uno, mani a terra, due, mani a terra, tre, ispirate, allungate bene, ispirando, uttanasana, ruotate i piedi in avanti, ispirando, saliamo bene, urtvasasana, provate subito il ginocchio sinistro al petto, tiratelo bene verso di voi, ispirando, lungo passo indietro, andiamo in un affondo alto, prendete i gomiti, ispirando, aprite bene, ispirando, mani a terra, distendete la gamba davanti, e rivenite di nuovo in avanti, allungate la schiena, ispirate, ispirando, due, ispirando, veniamo avanti, ispirando, tre, da qua portate il piede a terra, ginocchio sinistro a terra, ispirando, anjana yasana, ispirando, distendiamo la gamba davanti, e andiamo in un arda, anumanasana, ispirando, venite su a metà strada, preparatevi, sollevate il tallone destro, cinque, quattro, tre, due, uno, ripieghiamo il ginocchio davanti, ispirando, venite nel vostro anjana yasana, e da qua continuiamo, sollevate il ginocchio dietro, allungate bene, aprite bene il petto, ispirando, veniamo in avanti, mano sinistra a terra, gamba sinistra in alto, troviamo un po' una spaccata in piedi, all'inizio, le prime volte tenete la bella morbida, cercate di portare la fronte, alla tibia destra, potete rimanere qui in questa posizione, oppure possiamo provare una piccola verticale, quindi mani a terra, gamba sinistra in alto, magari fate un passettino indietro, e proviamo solo qualche saltellino, per saccare il piede destro da terra, due, e tre, quando avete fatto le vostre prove, riuniamo i piedi di nuovo, ispirando Ardha Uttanasana, ispirando Uttanasana, ispirando Urdhva Astasana, mentre venite in Urdhva Astasana, portatevi sulle punte dei piedi, allungate bene, attivate l'addome, spingete bene le braccia in alto, e da qua, lentamente piegate le ginocchia, andiamo a portare i glutei ai talloni, quello che faremo qui, è fare Bakasana, quindi un corvo, dal corvo portare la testa a terra, andiamo in Shir Shasana, verticale sulla testa, B, e poi saltiamo in Chaturanga, questa cosa se avete familiarità, può essere fatta in un unico movimento, oppure potete provare il vostro corvo, poi scendere, poi provare Shir Shasana, e andare nel cane a faccia in giù, quindi scegliete la versione che volete, se fate come me, e portate le mani a terra per andare nel corvo, venite bene in avanti, trovate il vostro corvo, lo teniamo un paio di respiri, e poi lentamente portiamo la testa a terra, sollevate le gambe, andiamo a cercare il nostro Shir Shasana, e da qua piegate il bacino a 90 gradi, con le gambe parallele al tappetino, saltiamo indietro, Chaturanga, ispirando, ottimo lavoro, cane a faccia in su, ispirando, cane a faccia in giù, un bel respiro profondo, portiamo le ginocchia a terra, e ci prepariamo ad andare sulla gamba sinistra, quindi ginocchia a terra, prepariamoci il nostro puppy pose, allungatevi bene, ispirate, ispirando srotoliamo la colonna, veniamo nella nostra spinge, ispirando distendete le braccia se volete, ispirando torniamo a terra, mani sotto le spalle, cane a faccia in giù, aprite i piedi alla distanza del tappetino, camminiamo indietro, andiamo a trovare il nostro Malasana, ispirando allungate bene la colonna, tre salti per portarci sulla cima del tappetino, mani a terra, uno, due, e tre, allungate bene, ispirate, ispirando, Uttanasana, ispirando Urdhvastasana, portatevi il ginocchio destro al petto, allungate bene la colonna, ispirando un bel passo indietro, a fondo alto, prendetevi i gomiti, ispirando aprite bene, affondate bene in quella gamba davanti, distendete bene la gamba dietro, ispirando mani a terra, ispirate qui per allungare, ispirando distendiamo la gamba davanti, ispirando allungate, ispirando distendiamo, ancora una volta, ispirando allungate, ispirando distendiamo, e questa volta ispirando, mentre veniamo in avanti, ginocchio destro a terra, ispirando braccio al cielo, angiana yasana, ispirando distendete, arda anumanasana, allungate bene la colonna, un paio di respiri qui per allungare, e poi andiamo a portare le mani sotto le spalle, questa volta attiviamo l'addome, respingiamo il tappetino, solleviamo, 5, 4, 3, 2, 1, piedi a terra, ispirando saliamo in un bello affondo alto, allungate bene, ispirando questa volta a mano destra, sul lato destro del tappetino, sollevate la gamba destra, andiamo a trovare una bella spaccata in piedi, fronte verso la tibia, potete stare qui ad allungarvi, oppure portate le mani a terra, fate un saltallo indietro, spalle ben oltre i polsi, qualche salto, per provare il nostro approccio alla verticale, se trovate qualche secondo di equilibrio, tenetelo, oppure usate il muro, oppure come me, potete cadere, bravissime, tutte ci stanno brolando, ottimo lavoro, quando avete finito, uttanasana, ispirando, urdvahastasana, venite sulle punte dei piedi, allungate bene, ispirando, scendiamo talloni ai glutei, la stessa transizione di prima, corvo, shirshasana, vinyasa, scegliete la versione, che vi sentite più sicura, la cosa importante è che se da il corvo, andiamo verso terra, siete sicure, di riuscire a rallentare bene il movimento, per non prendere una testata, quindi vogliamo atterrare con la testa, il più piano possibile, quando ci siamo, andiamo a trovare il nostro, bakasana, super attivo, lentamente testa a terra, shirshasana, da qua piegate le gambe, salti indietro, chaturanga, ispirando, bravissime, cane faccia in su, ispirando, cane faccia in giù, e ci siamo fatte già una bella prima parte di flow, vogliamo andare ad aggiungere la seconda, ginocchio a terra, andiamo a trovare il nostro puppy, ispirando venite avanti nella spinge, e distendete con la prossima ispirazione, ispirando fronte a terra, mani sotto le spalle, cane a faccia in giù, aprite i piedi, camminiamo indietro, e troviamo il nostro malasana, ispirando allungate, andiamo a fare i nostri tre salti, magari sempre un po' più alti, magari sempre un po' più leggeri, mani a terra, uno, due, e tre, ispirando allungate, ispirando, uttanasana, ispirando saliamo, portandoci il ginocchio sinistro al petto, ispirando a fondo alto, prendendo i gomiti, apriamo bene, ispirando mani a terra, allungate bene, ispirando distendete la gamba davanti, ispirando allungate, ispirando distendiamo, ispirando allungate, ispirando distendiamo, l'ultima volta, ispirando venite avanti, ginocchio sinistro a terra, andiamo in anjanayasana, ispirando, ispirando arda numanasana, ispirando, sollevate bene, cinque, quattro, tre, due, uno, e da qua riveniamo a terra, ispirando a fondo alto, ispirando, spaccate in piedi, ispirate qui, se volete, proviamo ancora a fare una verticalina, sollevando il piede destro da terra, e poi quando vogliamo tornare a terra, ispirando, arda uttanasana, ispirando uttanasana, ispirando saliamo, punte dei piedi, ispirando, scendiamo, e ci prepariamo al nostro corvo, shirshasana, vinyasa, prendete il tempo che vi serve, shirshasana, e da qua, vinyasa, ispirando, cane faccia in su, ispirando cane faccia in giù, ispirando, portate la gamba destra in alto, ispirando, ginocchio al petto, spalle sopra i polsi, ispirando, ispirando gamba destra in alto, ispirando ginocchio al petto, spalle sopra i polsi, ispirando gamba destra in alto, l'obiettivo qua è portare il piede destro adesso vicino alla mano destra, lo potete fare nel modo classico, portando ginocchio al petto, portando il piede destro, oppure, proviamo a saltare, quindi saltiamo con la gamba sinistra, cerchiamo una mini verticale, e portiamo il piede destro a terra, piccolo switch, da qui, ruotate il piede sinistro, indietro, ci prepariamo a un guerriero 2, affondate bene nella gamba davanti, preparatevi a trovare un pochino di apertura, affondate bene nella gamba davanti, allungate, cercate la retroversione del bacino, addome attivo, spalle rilassate, e spingete bene in entrambi i piedi, ispirando guerriero, reverso, allungate bene, ispirando torniamo al centro, skandasana sulla gamba sinistra, con o senza mani, allungate bene, colonna bella lunga, ispirate qui, rimanendo basse, andiamo sulla gamba destra, aprite bene, colonna lunga, lo facciamo ancora una volta per gamba, rimaniamo bassi, andiamo sulla sinistra, e torniamo sulla destra, allungate bene da qua, ripiantate il piede sinistro, ruotate entrambi i piedi sul lato lungo del tappetino, andiamo a trovare il nostro prasarita, schiena bella lunga, ischi che puntano verso l'alto, anche qui, opzione, di rimanere qua, allungare un po', oppure un altro shir shasana, testa a terra, possiamo staccare le gambe, salire, e portarci in shir shasana b, e se siamo qua, restiamo altri, 5, 4, 3, 2, 1, aprite le gambe, e ci riportiamo a terra, ispirando venite su, ispirando ruotate sul piede in avanti, andiamo a trovare il nostro guerriero 2, e da qui a fondo, alto, ispirando mano sinistra a terra, braccio destro in alto, andiamo a cercare vashis shasana, ruotate sul lato esterno del piede sinistro, potete portare una gamba sopra l'altra, ginocchio sinistro in alto, oppure prendervi il piede, e distendere bene la gamba destra, al cielo, se lo fate spingete bene il bacino in alto, e poi da qua lasciamo andare, piegate il ginocchio destro, ispirando il nostro kamat karasana, ed ispirando mano destra a terra, se volete passiamo da un vignasa, chaturanga, ispirando cane a faccia in su, e ispirando cane a faccia in giù, un bel respiro dal naso, ispirando dalla bocca magari, portiamo le ginocchia a terra, e ci prepariamo a fare tutto questo, sul lato sinistro, quindi quando siamo pronti, andiamo a trovare il nostro bel puppy pose, un paio di respiri qui, magari sentitelo un po' più profondo, ispirando srotoliamo la colonna, ci portiamo nella nostra sfinge, ispirando distendete le braccia, aprite bene, ispirando ritorniamo a terra, puntate le punte dei piedi, cane a faccia in giù, ispirando andiamo ad aprire i piedi alla distanza del tappetino, ispirando camminiamo indietro, ci portiamo in malasana, i nostri tre salti, magari siamo un pochino più coraggiose, mani a terra, veniamo su, se trovate un attimo di equilibrio godetevelo, un pochino più coraggio, e ultimo, tre, quando siete qua ispirando allungate bene, ispirando, uttanasana, ispirando mentre saliamo portate il ginocchio destro al petto, ispirando a fondo alto, prendete i gomiti, aprite bene, e ispirando mani a terra, ispirando allungate, ispirando distendete la gamba davanti, ispirando allungate, ispirando distendiamo, ispirando allungate, ispirando distendiamo, ultima volta ispirando venite avanti, ginocchio destro a terra, braccio al cielo, angiana yasana, ispirando veniamo giù, ardhanumanasana, ispirando allungate bene, un paio di respiri qua, quando siamo pronti attivate l'addome, sollevate la gamba, 5, 4, 3, 2, 2, 1, rivenite in avanti, a fondo alto, aprite bene, ispirando, spaccate in piedi, magari riusciamo ad andare un pochino più a fondo, potete restare qua ad allungare, oppure passetti indietro, possiamo provare un paio di verticali, spalle oltre i polsi, mani attive, godiamoci, il tempo che riusciamo a rimanere su, e poi quando abbiamo finito, utta, nasana, ispirando, urtvasasana, mani al cielo, venite sulle punte dei piedi, ispirando, lentamente pieghiamo le ginocchia, e andiamo a portarci, nel nostro bakkasana, che magari, diventa shirshasana, che magari diventa, chaturanga, ispirando, kanafasana in su, ispirando, kanafasana in giù, ispirando, gamba sinistra in alto, ispirando, ginocchio al petto, spalle sopra i polsi, ispirate su, ispirando di nuovo, ginocchio al petto, spalle sopra i polsi, ispirando, gamba sinistra in alto, qual è la vostra scelta, portate il piede sinistro vicino alla mano sinistra, oppure proviamo a arrivarci, con una sforbiciata, e proviamoci un paio di volte, magari, e, quando atterriamo, ruotate il piede dietro, guerriero due, non importa come ci arriviamo, alla fine ci arriviamo, aprite bene, cercate l'attivazione dell'addome, affondate bene nella gamba davanti, ben respiri profondi, spingete in entrambi i piedi, ispirando, cerchiamo il nostro guerriero, reverso, affondate un po' nella gamba davanti, mentre allungate bene, distendete il braccio sinistro, bravissime, ispirando, veniamo al centro, ispirando, skandasana sulla gamba destra, cercate di tenere una schiena bella lunga, le spalle elevate, mentre siete in skandasana, fate un bel respiro qua, e restando basse, passiamo dall'altra parte, sulla gamba sinistra, ruotate la gamba destra verso l'alto, punte del piede verso l'alto, ancora una volta per lato, piano restate basse, se serve usate le mani, yes, e da qua ultima volta, gamba sinistra, ok, veniamo al centro, divaricate bene le gambe, prasarita padottanasana, andiamo a portare il patto in mezzo alle gambe, sempre un'ottima opzione, quella di rilassarsi qua, oppure se volete, shir shasana, b, distendete le gambe, scegliete bene, puntate la punta dei piedi, ben respiri fluidi, e da qua, riapriamo, e scendiamo, inspirando, venite su a metà strada, ruotate il piede davanti, e risaliamo nel nostro guerriero 2, aprite bene, ruotate sul piede dietro, a fondo alto, mano destra a terra, braccio sinistro in alto, troviamo il nostro twist, e da qua andiamo in bascistasse, una tavola laterale, ruotate sul piede dietro, potete mettere la mano al ginocchio, portare il ginocchio in alto, portare un piede sopra l'altro, oppure andare a prendere l'alluce, e distendiamo la gamba sinistra, bene alta, bella distesa, spingete il bacino in alto, 5, 4, 3, 2, 1, piegate il ginocchio, portatelo dietro la gamba sinistra, ispirando, kamat karasana, andiamo ad aprire bene, e lentamente, possiamo passare dal vignasa, o andare direttamente nel nostro, kana faccia in giù, oppure, kana faccia in su, aprite bene, e da qui, kana faccia in giù, portate le ginocchia a terra, andiamo a portare le mani sulle gambe, questo era il flow, ci manca da aggiungere solo una piccola parte finale, che facciamo alla fine, dove proveremo il nostro, pincia mayorasana, quindi la verticale sul gomito, ma adesso lo andiamo a ripetere, tutto, prima da una parte, poi dall'altra, quindi cercheremo di mantenere il respiro fluido, se siete stanche, saltate verticali, saltate salti, andate solo col vostro focus, e col vostro flow, quando siamo pronti, ci portiamo, in patti pose, mento a terra, ispirate bene, aprite bene, e ispirando, scivoliamo in avanti, piramide, scusate, sfinge, ispirando, distendete le braccia, aprite bene, ispirando, scendiamo, mani sotto le spalle, cane a faccia in giù, aprite i piedi, alla distanza del tappetino, ispirate, ispirando, malasana, ispirando, allungate, ispirando i nostri tre salti, per portarci, sulla cima del tappetino, ispirando, allungiamo di nuovo in malasana, ispirando, andiamo a cercare il nostro uttanasana, ispirando, saliamo, ci portiamo il ginocchio sinistro al petto, ispirando, a fondo alto, prendendo i gomiti, aprendo bene, ispirando, veniamo avanti, allungate bene la colonna, ispirando, distendete, ispirando, allunghiamo, ispirando, distendete la gamba destra, ispirando, venite avanti, ultima volta, ispirando, distendiamo, ispirando, mentre veniamo avanti, il ginocchio sinistro a terra, ispirando, arda, scusate, anjana yasana, ispirando, arda, anumanasana, restate qua un paio di respiri, ad allungare, poi portate le mani sotto le spalle, e sollevate il tallone destro, cinque, quattro, tre, due, uno, riportiamo il piede a terra, ispirando, a fondo alto, ispirando, spaccate in piedi, scegliete se stare qua un paio di respiri, provare qualche saltello, nella vostra verticale, e poi torniamo a terra, ispirate, arda, anumanasana, ispirando, uttanasana, ispirate, urdva, stasana, venite sulle punte dei piedi, ispirando, scendiamo, talloni ai glutei, e da qua, ispirando, bakkasana, ispirando, shir shasana, e vinyasa, ispirando, canna faccia in su, ispirando, canna faccia in giù, ispirando, gamba destra in alto, ispirando, ginocchio al petto, spalle sopra i polsi, ispiriamo su, ispirando bene, ginocchio al petto, ispirate su, ispirando, fate il vostro viaggio, per portare il piede destro, vicino alla mano destra, ci ritroviamo in un guerriero 2, quando siamo pronti, guerriero 2, affondate bene, ispirando, guerriero, reverso, ispirando, ritorniamo al centro, ispirando, skandasana sulla sinistra, ispirando, skandasana sulla destra, ispirando, skandasana a sinistra, ispirando, skandasana a destra, ruotiamo, di nuovo, e andiamo in prassarita paduttanasana, gamba distese, ispirando allungate, ispirando, andiamo un po' a fondo, chi vuole qua, shir shasana b, portiamo le gambe in alto, mantenete il focus, a un certo punto, la testa è stanca, quindi potrebbe risultare ancora più difficile, ispirando venite sulla metà strada, e ritorniamo nel nostro guerriero 2, ruotate sul piede dietro, ispirate qui, ispirando mano sinistra a terra, braccio destro, in alto, vashasana, A, B, quello che preferite, il vostro, personale viaggio, lasciate andare il piede, e ci portiamo, in, kamat karasana, ispirando, aprite bene qui, ispirando, veniamo, nel nostro, vinyasa, kana faccia in su, andiamo a portare le ginocchia a terra, ci sediamo sui talloni, prima di passare sull'altro lato, proviamo ad andare a approcciare il nostro, pinciamayurasana, quindi da qua, i palmi delle mani possono essere a terra, uniti, potete incrociare le dita, la cosa importante è che siete forti sui gomiti, sulle spalle, puntate le punte dei piedi, andiamo a sollevarci, a portare il più possibile le spalle oltre i polsi, sollevate la gamba a destra, e magari con un piccolo, salto, ci portiamo, nel nostro pincia, mayurasana, ricordate che il salto non deve essere, immenso, se vogliamo andare, a trovare l'equilibrio qui, restate tutto il tempo, che sentite, che vi serve, trovate le versioni che preferite, ottimo lavoro, sto vedendo degli immensi miglioramenti, con senso a muro, cercate di rendere il vostro salto, piccolo, e controllato, bravissime, ottimo, ottimissimo lavoro, e quando avete fatto, c'è chi è molto comfortable in questa posizione, beato lui, andiamo a riportarci con le ginocchia a terra, fate un paio di respiri, ripeteremo tutto il flow, a sinistra, alla fine con un'altra opportunità di fare il nostro pincia, quindi quando siamo pronti, andiamo a portarci, in puppy pose, allungate bene, portate il mento a terra, fate un paio di respiri, e con la prossima ispirazione, venite in avanti, andiamo nella nostra sfinge, fate un bel respiro qui, espirando magari distendete, stendete, apriamo bene, ci riportiamo a terra, mani sotto le spalle, ispirate, cane a faccia in giù, e poi apriamo i piedi, la distanza delle anche, camminiamo indietro con le mani, malasana, ispirando allungate, ispirando mani a terra, il nostro viaggio, per la cima del tappetino, i nostri tre salti, se troviamo l'equilibrio, godiamocelo un attimo, visto che non capita, spessissimo, e poi, ci ritroviamo in malasana, ispirando allungate, e ispirando, uttanasana, ispirando mentre saliamo, ci portiamo il ginocchio destro al petto, ispirando a fondo alto, ci prendiamo i gomiti, aprite bene, ispirando veniamo in avanti, ispirando allungate, ispirando distendiamo la gamba sinistra, ispirando allunghiamo, ispirando distendiamo, ispirando allunghiamo, ispirando e distendiamo, ispirando veniamo in avanti, ginocchio destro a terra, braccio al cielo, anjanayasana, ispirando, ardanumanasana, andiamo allungare bene un paio di respiri, e con la prossima ispirazione, sollevate la gamba sinistra, 5, 4, 3, 2, 1, ripieghiamo, saliamo in un bel affondo alto, ispirate qui, ispirando, spaccate in piedi, possiamo stare qui, oppure provare un paio di saltelli, nella nostra verticale, magari la teniamo qualche istante, tutto il tempo che volete, prima di riportarci, bravissime, nel nostro uttanasana, ispirando, urdva stasana, venite sulla punta dei piedi, ispirando, lentamente scendiamo, ci prepariamo al nostro, corvo, se siete stanchi, potete saltare, qualche transizione, cima della testa a terra, andiamo a portarci in shir shasana, ispirando, chaturanga, ispirando, urdva, mukha svanasana, ispirando, adho mukha svanasana, ispirando, gamba sinistra in alto, ci prepariamo, portare il ginocchio al petto, spalle sopra i polsi, ispirando su, ispirando, ginocchio al petto, spalle sopra i polsi, ispirando su, dobbiamo andare nel guerriero 2, quindi potete portare il piede sinistro a terra, passarci con una piccola verticale, come volete, l'importante, ottimo lavoro, che ci portiamo subito, e ci ritroviamo tutte nel guerriero 2, infatti eccoci qua, allungate bene, ispirando, andiamo a portare il braccio sinistro in alto, affondate bene nella gamba davanti, ottimo lavoro, ispirando, ritorniamo al centro, skandhasana nella gamba destra, basse, basse, gamba sinistra, yes, gamba destra, gamba sinistra, ottimo, prasarita padotanasana, divaricate bene, ispirando venite a metà strada, su, ispirandoci, pieghiamo in avanti, anche qui, opzione, per andare sotto sopra, andiamo a portare bene tutte le nostre articolazioni ad allinearsi, è qui che sentiamo le posizioni più leggere, e piano piano, riscendiamo, ispirando venite su a metà strada, ispirando ritorniamo per un istante nel nostro guerriero 2, solo una transizione, per passare in un affondo alto, mano destra a terra, braccio sinistro in alto, il vostro vashistasana, andiamo a distendere la gamba sinistra, la cosa importante è spingere bene il bacino in alto, aprire bene, restiamo qua qualche respiro, e poi andiamo a piegare il ginocchio sinistro, dietro la gamba destra, ispirando ruotate bene il busso al cielo, e cerchiamo il nostro, kamat karasana, posizione selvaggia, aprite bene, e lentamente torniamo dalla tavola, ispirate qui, ispirando chaturanga, ispirando, canna faccia in su, ispirando, canna faccia in giù, ginocchio a terra, ci sediamo un attimo sui talloni, e per chi vuole, c'è ancora un'opportunità di andare, e provare la nostra pincia mayurasana, il flow è finito, quindi tranquille, non abbiamo tempo di ripeterlo, se no magari ve lo facevo ripetere, ok, quindi se vogliamo, gomiti a terra, palmi uniti, palmi a terra, come siete abituati, magari le volte usare, un mattoncino tra le mani, può servire a darci stabilità, tenete vicino il muro, se volete, e poi da qua, ci solleviamo nel nostro delfino, cercate di camminare il più possibile, con i piedi, per avvicinarvi, per portare le spalle sopra, i polsi, e respingete bene il tappellino, con i polsi, da qua sollevate una gamba, e magari, facciamo un saltello, scegliete la posizione che volete, delle vostre gambe, magari può essere, un ginocchio al petto, può essere qualsiasi forma, scegliete, possono essere le gambe dritte, e ricordate che questa è una delle posizioni, più frustranti come inversione, l'ho tenuta per ultima, proprio perché richiede grandissima apertura, nelle spalle, nelle spalle, quindi, dategli il tempo, riusciremo a trovare la linea dritta, solo, quando avremo, sufficiente apertura, nelle nostre spalle, provatelo un po' di volte ancora, ottimo lavoro, e poi, scendete, quando siete pronte, ok, andate a puntare le punte dei piedi, sedetevi sui talloni, portate la cima della testa a terra, andate a grappare i talloni con le mani, e tirate in avanti, andiamo a sciogliere un pochino tutta la parte posteriore, cervicale, collo, che sono stati così a lungo, sotto pressione, fate un paio di respiri qui, e poi piano piano sciogliamo, ritorniamo sulle nostre ginocchia, inspirando portate le braccia in alto, piegate il gomito destro, fate scivolare la mano destra in mezzo alle scapole, se volete veniamo indietro col braccio sinistro, proviamo a sciogliere un pochino, aprite bene, sciogliete bene, e poi andiamo a cambiare, braccia in alto, piegate il gomito sinistro, cercate di spingerlo bene in alto, e poi tirarlo indietro, dietro la testa, ma non fate cascare la testa in avanti, quindi se vedete che la testa casca in avanti, tenetelo un pochino più aperto di lato, e poi magari possiamo andare a cercare, l'apertura col braccio dietro, il collo è libero, c'è spazio, andiamo a sciogliere bene qui, e lentamente sciogliete, fate qualche bel movimento con le braccia, avanti e indietro, braccia morbide, per andare a sciogliere il più possibile, ruotiamo sulle caviglie, ci portiamo a terra, scivolate a terra con tutto il corpo, talloni vicino al bacino, ispirando veniamo in un ponte, sollevate bene il bacino, andate magari a incrociare le mani sotto di voi, avvicinare le spalle, sciogliamo un pochino la zona dello psoas, abbiamo lavorato tantissimo, salti con pressioni, quindi anche più tardi, o domani, magari fatevi qualche ponte supportato, col mattoncino, restiamo qua ancora un istante, e poi andiamo a sciogliere, andate a unire le piante dei piedi, per un istante, aprite le ginocchia di lato, sciogliete bene qui, rilassate le spalle, rilassate le braccia, potete rimanere qui, oppure andare a cercare il vostro shavasana, andate a cercare il vostro shavasana, scegliete se siete comode in questa posizione, oppure se volete lasciare andare tutto, distendere le gambe agli angoli del tappetino, e dopo tutta questa attività, portate un po' di pace, un po' di quiete, un po' di riposo, passate che respiro, scuora libero, a cercare la realtà, E quando siete pronte cominciamo a muovere dita delle mani e dei piedi, prima le dita, poi caviglie e polsi, poi ginocchia e gomiti, poi magari bacino e collo, cominciamo a risciogliere, a sentire bene il respiro nel petto, fino a che riusciamo a portare le ginocchia al petto, stringere bene, venite su un lato, destro, sinistro, e piano piano, con gli occhi chiusi, così, portatevi a sedere su kasana, mani al cuore, la prima cosa che vogliamo fare è un ringraziamento per questo corpo che ci segue in ogni avventura, alle volte magari ci sembra impacciato, ci sembra che non voglia fare quello che gli chiediamo, ma vi assicuro che fa tutto quello che è possibile per portarvi dove volete, quindi continuate a curarlo, coltivarlo, lavorarci insieme, ma anche a trovare momenti per apprezzarlo e per ringraziarlo. Io vi ringrazio per questa pratica insieme, mi auguro di vedervi prestissimo sul tapetino. Namaste. Io vi ringrazio per questa pratica insieme, mi auguro di vedervi presto,